Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui per analizzare i sorteggi di Champions League che si sono svolti nella scorsa giornata che hanno visto Juventus e Napoli sicuramente più fortunati rispetto all'Inter. Napoli infatti ha incontrato il Liverpool per la seconda stagione di fila, il Genk e il Salisburgo quindi un sorteggio abbastanza dalla nostra parte perché Liverpool e Napoli possono arrivare primi senza quasi alcun problema. La Juventus comunque ha avuto un sorteggio abbastanza facile incontrando come squadra forte c'è solo l'Atletico e invece l'Inter ha incontrato un sorteggio molto più difficile Lokomotiv Mosca, Borussia Dortmund e Barcellona. Devo dire la verità secondo me l'Inter non passa perché il Barcellona ovviamente è troppo più forte e il Dortmund è lo stesso, è anche più forte dell'Inter quindi è molto 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 difficile che l'Inter riesca a passare. Inter che incontra il Barcellona per la seconda volta di fila come ha fatto il Napoli contro il Liverpool e io comunque sono fiducioso perché il Napoli ha dimostrato di poter vincere contro il Liverpool sia nella Michepoli sia in Champions League. L'Atalanta invece ha incontrato il Manchester City e altre squadre del suo livello quindi è un po' difficile anche lo stesso per l'Atalanta. Io comunque spero che l'Atalanta passi mentre il passaggio di Napoli-Juventus non dico che sia scontato perché quello del Napoli non è scontato però è più che possibile e il Napoli deve assolutamente superare questo girone perché l'anno scorso con Liverpool e Paris Saint-Germain ce l'ha quasi fatta e quest'anno solo con Liverpool ce la deve fare per forza. Lo stesso la Juve che oltre al Tretico non alcuna non ascolta le forti che possano fermarla e quindi diciamo che questi sorteggi sono sono stati abbastanza dalla parte delle italiane a parte dell'Inter però come detto Napoli ha avuto abbastanza fortuna in questi sorteggi e deve sperare di riuscire ad arrivare ai quarti di finale di Champions League stabilendo così il record perché come sappiamo il Napoli non ha mai superato gli ottavi di Champions mentre Inter, Juve e Milan l'hanno vinta e la Roma è arrivata in semifinale quindi per fare questo record bisogna innanzitutto superare questo girone che non è molto difficile